Ghostbusters Frozen Empire o Ghostbusters Minaccia Glaciale. Parliamone insieme dopo la sigla. Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica film in uscita e bentornati nella rubrica Ghostbusters. Sono felicissimo di poter parlare di nuovo di questo franchise. Ghostbusters Frozen Empire titolo americano dal titolo italiano Ghostbusters Minaccia Glaciale anche questa volta il titolo italiano sembra più azzeccato di quello originale laddove qualche anno fa c'era Ghostbusters Legacy contro il titolo americano Ghostbusters Afterlife mentre appunto a tutti gli effetti mi sembrava più corretto come sottotitolo Legacy proprio perché tre anni fa abbiamo visto la legacy di Egon Spengler il suo lignaggio, quello che ha lasciato ai posteri sia dal punto di vista narrativo sia anche dal punto di vista extra narrativo perché appunto ci ha lasciato questo fandom enorme di Ghostbusters anche un po' tossico ma di che cosa stiamo parlando? Tutti i fandom lo sono quindi non mi sembra il caso di soffermarsi più di tanto su questo aspetto e ci ha lasciato una grande passione per questo franchise che è alla sua quarta edizione, al suo quarto film in uscita di cui due film negli anni 80, Capostipiti e due film negli anni 2000 tutti questi quattro film ambientati nello stesso universo poi lo so ragazzi lo so che c'è anche un film con delle protagoniste femminili che non ha avuto il successo che la Sony sperava fortunatamente perché è orrendo è brutto ma credo che la cosa che abbia dato fastidio a molte persone senza pure che se ne rendessero conto perché molte persone non sono capaci di articolare le proprie lamentele è il fatto che non fosse ambientato nell'universo di cui stiamo parlando adesso Ghostbusters del 2016 non è canon a questi film di conseguenza ha fatto storcere il naso alle persone che aspettavano un sequel da tanti anni del film dell'89 e non l'hanno avuto finalmente questa pezza è stata messa da Ghostbusters Legacy che ha permesso, con il suo anche successo forse inaspettato ha permesso di fare questo sequel Frozen Empire Minaccia glaciale e ragazzi io vi devo dire un po' di cose vi devo dire innanzitutto il mio punto di vista da fan e poi anche un punto di vista un po' più critico un punto di vista un po' più da, non lo so, amante di quello che è semplicemente la narrazione, il cinema che si allontana un attimino da quello che è la passione per i Ghostbusters e guarda con l'occhio dell'uomo della strada di quello che guarda un film magari che ha visto Ghostbusters nell'84 e si aspetta un po' la stessa formula narrativa e si trova un po' spiazzato ma andiamo con ordine in Ghostbusters Frozen Empire torna finalmente uno dei protagonisti che tanto era mancato in Ghostbusters Legacy e che tanto faceva sentire la sua assenza non mi sto rivolgendo ad Harold Ramis ovviamente che invece era molto presente in Legacy ma mi sto riferendo alla città di New York location ma anche personaggio di Ghostbusters a tutti gli effetti per quanto è bello vedere Ghostbusters girare per il mondo è anche vero che la propria casa, la casa dei Ghostbusters resterà sempre New York e in un film ci si aspetta di vedere New York e si sapeva che Ghostbusters Legacy non aveva un'ambientazione new yorkese proprio non tanto per la storia ma proprio perché mancavano i fondi i fondi proprio con Ghostbusters Legacy sono arrivati e finalmente si torna in pompa magna a girare nella fantastica città di New York addirittura costruendo un set che ricostruiva completamente la caserma dei pompieri tant'è che il titolo di lavorazione di questo film era Ghostbusters Firehouse Ghostbusters Caserma dei pompieri titolo non a caso perché non solo New York ma la caserma dei pompieri è forse protagonista più in questo film che in qualunque altro film della saga forse proprio è questo l'aspetto più fanservice di questo film forse è questo l'aspetto che più si richiama anche ai cartoni animati noi proprio vediamo la vita di questa famiglia di questa famiglia Gruberson o scusate famiglia Gruberson Spengler che a tutti gli effetti è andata a vivere all'interno della caserma vuoi che anche i Ghostbusters originali ci vivevano all'inizio ma poi comunque ognuno aveva casa sua soprattutto vediamo in Ghostbusters 2 l'appartamento di Peter Venkman e va da sé che le persone avessero comunque una casa loro qua invece sapendo anche quello che è successo in Legacy cioè che la mamma di Phoebe era sull'astrico e l'avevano cacciata da casa perché non pagava l'affitto va da sé che qua ci abita oltre a lavorarci però è chiaro che la caserma dei pompieri non era di proprietà di Egon Spengler è stata riacquistata da un Winston Zedmore che nel frattempo ci hanno raccontato ha fatto i soldi, ha fatto successo e ha dedicato la sua vita di successo a reinvestire nel brand Ghostbusters per riaprire l'attività che tanto lo aveva arricchito da giovane quindi questo è un pochino quello che capiamo dai primi minuti di film e questo lo abbiamo anche visto praticamente nei trailer quindi non vi sto dicendo nulla che già non avessimo capito dai trailer da fan è davvero fantastico vedere gli anfratti della caserma vedere cosa è successo in questi anni vedere come vivono nella caserma dei pompieri una famiglia a tutti gli effetti quindi non vediamo solo un laboratorio o in una scena, non lo so, da fuori vediamo le stanze dove dormono ma vediamo a tutti gli effetti quello che è un salotto fondamentalmente che dovrebbe essere lo stesso piano dove c'era il tavolo da biliardo in Ghostbusters 2 dove hanno animato, dove hanno posseduto il tostapane e anche in questo film c'è tanto fanservice però devo dire che mi sembra un fanservice molto più gratuito ci sono alcune cosette che hanno mostrato solo per mostrarle cosette ve lo dico senza andare nello specifico tanto non è spoiler cosette che hanno mostrato solo per far puntualizzare che Ghostbusters 2 era canonico perché qualcuno ha fatto uscire la voce che no, Legacy è un sequel di Ghostbusters 1 Ghostbusters 2 non è più canonico non è assolutamente vero in Ghostbusters Legacy c'era il tostapane indemoniato come citazione c'erano tante cose anche in Ghostbusters Legacy non le hanno notate perché non sono fan di Ghostbusters 2 ma Ghostbusters 2 è a tutti gli effetti canonico tant'è che in questo film c'è diciamo un cameo della melma umorale ma è fine a se stesso invece avrebbero potuto usarla davvero avrebbero potuto usarla narrativamente per appunto in modo un po' più utile poi magari ne parliamo meglio nel video spoiler un'altra cosa che ho adorato è vedere appunto la realtà dei Ghostbusters che è espansa oltre la caserma ovvero tutto quello che c'è attorno tutto quello che si sta creando tutte queste side story che sono tantissime e che potrebbero riempire una serie tv di 10 episodi oltre alla caserma dei pompieri vediamo altre cose il laboratorio che vediamo sempre nei trailer finanziato da Winston Zedmore vediamo questo personaggio biondo che c'è nei trailer che è uno scienziato che sta aiutando quel laboratorio vediamo che è tornata Lucky vediamo che c'è ancora Podcast che collabora con Ray Stance vediamo che c'è Winston abbiamo visto nei trailer che c'è anche Peter Venkman c'è Janine oltre alla famiglia Gruberson oltre ai figli ai ragazzi e agli amici della famiglia Gruberson Spengler e anche qualcosa in più che non vediamo nel trailer ed è fantastico da fan vedere tutto questo in un unico film ma il problema da non fan è proprio questo è proprio che ci sono mille trame ci sono mille side stories che vanno poi a confluire nella storia finale in modo abbastanza frettoloso abbastanza tagliuzzato sono molto sicuro che il finale sia stato tagliato parecchio soprattutto anche le scene della vecchia guardia sicuramente un paio di tagli li hanno fatti e non hanno giovato per niente alla pellicola questo mondo espanso fantastico che ci hanno mostrato arricchisce tantissimo l'universo di Ghostbusters e vuole approfondire tutti questi personaggi vuole approfondire Trevor vuole approfondire Lucky vuole approfondire Podcast Phoebe vuole approfondire la famiglia Gruberson-Spengler il loro rapporto dall'ultimo film vuole approfondire anche la vecchia guardia ma come è possibile fare tutto questo in un film di sole due ore ragazzi non è possibile e infatti è qui che pecca il film il film cade perché ha tutte queste trame e non riesce a cioè non è che non riesce riesce anche a spiegarle ma a discapito del ritmo del film il film perde di ritmo diventa una fantastica storia fantasy ma perde quel ritmo tipico da commedia sci-fi anni 80 che era Ghostbusters che era Ghostbusters 2 ritorno al futuro per darvi un'idea la braccia è accesa ed è questo che è un po' perde ed è questo che stanno lamentando molti fan o comunque molti fan del film dell'84 che non vuol dire essere fan di Ghostbusters per forza purtroppo tutte queste sottotrame era meglio non aprirle proprio era meglio fare una storia che apriva una trama e la chiudeva e dava il ritmo della storia degli anni 80 o al massimo potevano dare una sottotrama dove la trama principale è quella con la minaccia glaciale comprendeva tutti e dico tutti gli adulti in contemporaneamente sia la vecchia guardia che i genitori Gruberson Spengler e un'altra sottotrama solo una che comprendeva tutti e dico tutti i bambini perché? perché questa è più o meno la struttura di Ghostbusters Legacy c'era un'unica trama che ha fatto confluire insieme tutta la trama dei bambini e una trama degli adulti molto stringata che poi si è confluita con quella dei bambini e poi sono arrivati quelli della vecchia guardia qua potevano fare vecchie e nuova guardia di adulti tutti insieme e poi bambini con la loro storia che andavano a confluire nel finale questo avrebbe alleggerito molto il ritmo del film invece hanno voluto dare a ognuno uno spessore senza il tempo a disposizione io davvero avrei voluto vedere una serie tv a questo punto di 10 episodi con quello che ho visto in questo film o banalmente avrei preferito vedere un Ghostbusters Frozen Empire parte 1 e parte 2 dove magari nella parte 2 c'era il fuoco ghiaccio e fuoco avrebbe completato tutto e non lo sto dicendo a caso purtroppo questo film ha l'onere di essere un sequel sia dei primi due proprio perché appunto Legacy era un po' uno spin off e ha l'onere anche di essere il sequel di suddetto spin off di conseguenza appunto ha dovuto cacciar dentro tutte queste trame però ripeto ce l'avrebbe fatta in modo molto più fluido se avesse fatto solo due trame una principale e una secondaria ne ha aperte 7 di trame non sto esagerando 7 trame le dirò nella parte spoiler perché non voglio rischiare di fare spoiler però ci sono 7 trame compresa la principale la trama principale no anzi ci sono 8 trame 7 side story e una trama principale che è la minaccia glaciale quindi va da sé che le persone magari che si aspettano un film un po' più commedia si rompono le palle ovviamente devi essere un fan super purista di Ghostbusters devi aver visto e adorato e sapere a memoria il primo film il secondo film i cartoni animati devi aver giocato a Ghostbusters il videogame che tra l'altro vi consiglio di recuperare devi aver letto i fumetti della IDW che sono difficili da recuperare ma ve li consiglio devi aver amato i Ghostbusters in tutto e per tutto e io fortunatamente faccio parte di questa cerchia di persone e ho apprezzato il film ma se sei un fan di una commedia anni 80 con anche degli effetti speciali una parte un po' horror un po' fantasy questo film potrebbe deluderti io vi consiglio comunque di andarlo a vedere perché questo può alimentare il franchise e far uscire un sequel dove magari forse hanno capito che hanno tempo per raccontare le trame in più film e magari si danno un attimino una rallentata e li raccontano meglio questa è una mia flebile speranza però mi piacerebbe vedere una una trilogia almeno di questi film nuovi quindi mi piacerebbe vedere un altro film c'è chi dice che il franchise di Ghostbusters è bollito non sono d'accordo secondo me da quel franchise non abbiamo sfruttato assolutamente niente semplicemente il fandom americano è troppo troppo legato agli attori originali che sono comunque ormai quasi ottuagenari e che non rendono nemmeno più su pellicola tranne Winston che sono molto felice che ha avuto lo spazio in questo film che gli è stato negato nel primo film se lo merita perché ha portato avanti tantissimo nelle fiere nei comic con il franchise di Ghostbusters così come Dan Eccroid invece lo ha portato avanti nelle interviste nel suo essere uno degli scrittori originali nel suo crederci davvero e nell'averlo voluto da sempre questo sequel quindi Ray e Winston sono davvero i Ghostbusters che più di tutti meritano di avere spazio in questo film e lo hanno avuto quindi di questo sono molto contento però bisogna ammettere che bisogna andare avanti con una nuova guardia e farci un po' vedere delle nuove storie spero di avervi un pochino titillato la curiosità di avervi dato un po' speranza ma anche un po' di onestà intellettuale sul film che vi consiglio di andare a vedere noi ci vediamo settimana prossima per la recensione totalmente spoiler curiosità camei cazzi mazzi ne parlerò proprio in modo lungo noioso se non siete fan di Ghostbusters ma se lo siete vi consiglio di tornare i video dell'anno scorso mi hanno comunicato che volete una parte spoiler grazie ancora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti